In Inghilterra il momento della nascita di una rara giraffa di Rothschild, di cui esistono solo circa 1500 esemplari in aree protette del Kenya e dell'Uganda. Il piccolo venuto al mondo dopo una gestazione di 15 mesi è alto circa un metro e mezzo e ha compiuto i suoi primi traballanti passi sotto lo sguardo di mamma Urla, un esemplare di 8 anni. Il è stato la mascotta dell'Ozono.